Inaccettabile in tempi di crisi come questi il rifiuto di un alloggio comunale, a meno che non sia per motivi di salute, fuori dalle liste chi si comporta così. Il commento tagliente ad un fenomeno apparentemente in crescita anche nel capoluogo è di Fernando Pontecorvo. Il consigliere comunale del PDL ha così annunciato l'intenzione di proporre una revisione delle norme che regolano le assegnazioni. Meno dura ma altrettanto risoluta l'assessore all'urbanistica del capoluogo Maria Chiara Pasquali, che fa riferimento alla norma provinciale da cui la materia viene disciplinata, la stessa che riguarda gli alloggi IPES. Oggi, in caso di mancata accettazione di un alloggio assegnato, si esce dalle liste per tre anni. Pasquali ne propone al massimo cinque. E poi dice che il problema è più complesso, visto che i piccoli alloggi comunali non soddispano spesso la richiesta di famiglie davvero numerose, solitamente quelle con i ponteggi più alti. Un'idea per il futuro sarebbe anche quella di affidare la gestione delle richieste per gli immobili municipali all'IPES, a patto che l'edilizia sociale Bolsanina rimanga proprietà del comune.